Consigliere Foglia per presentare insieme questa iniziativa della Proloco di Montoro Inferiore che immagino da Presidente della Commissione Agricoltura non potrà che trovarla soddisfatta. No, io a parte questa iniziativa, ma la Proloco di Montoro Inferiore è stata sempre attenta sia alle produzioni tipiche locali in agricoltura e sia a quelle che sono le tradizioni del territorio con la valorizzazione, con le varie sagre, rappresentazione, manifestazione, quindi mi sembrava doveroso e giusto anche in questa occasione di dare il sostegno ai giovani della Proloco di Montoro Inferiore ed in particolare al suo Presidente Enzo Pecoraro. Su questo territorio l'agricoltura sta pian piano rivenendo fuori, c'è di nuovo grande attenzione, quali sono gli stimoli che possono venire dalla Regione anche per i più giovani che pure partecipano in maniera massiccia a quelle che sono le iniziative della Proloco? Sì, in effetti questa è una terra in cui l'agricoltura, salvo l'ultimo periodo in cui c'è stato un po' di disattenzione, ha avuto sempre un ruolo fondamentale nell'economia e nell'occupazione. Proprio grazie alla tipicità e all'abbondata di queste produzioni agricole, Montoro passa per un territorio, il territorio di Montoro, ma direi della Valle dell'Irno, come una delle zone più fertile e più ricca di queste produzioni tipiche. La Regione Campania attraverso una serie di provvedimenti, e basterebbe citare che in provincia di Avellino nel 2013 sono stati erogati 60 milioni di contributi a favore dell'agricoltura nel PSR e cerca di incentivare l'occupazione giovanile in agricoltura attraverso leggi, provvedimenti, attraverso incentivi, qual è quello del cluster, attraverso la formazione di cooperative agricole alle quali, quando sono composti dai giovani, a queste cooperative la Regione sta vicina, e dal punto di vista economico, e dal punto di vista dell'avviamento, quindi della formazione di tutti quelli che sono gli interventi necessari perché i giovani si appassionino, perché noi abbiamo questo grande problema, abbiamo il problema che l'età media degli agricoltori è intorno ai 55 anni, quindi se non dovessimo avere questo ricambio generazionale che si rende necessario, quando dico necessario, proprio necessario nel senso letterale della parola, noi fra dieci anni avremo l'abbandono delle terre, quindi l'abbandono di questa ricchezza che oggi è il vero sostegno dell'economia della nostra Regione. Un luogo che presenta un calendario per recuperare anche un po' di memoria storica, un calendario che però serve anche per annotare 365 giorni, in questo 2014 ci sono appuntamenti importanti anche politici, si vota in tanti comuni, in Irpinia in tantissimi, Montoro insieme a Dariano sarà uno dei grandi comuni chiamati al voto, da questo punto di vista lo scenario politico, quale sarà anche l'impegno? Lo scenario politico a Montoro in cui si vota la prima volta per il comune unico di Montoro è tutto da sperimentare, da verificare, però oggi credo che sia ancora un po' presto, però vedo che stanno per scendere in campo formazioni di tutto interesse che hanno a cuore le sorte del territorio. Allora sarà assegnato un compito arduo, difficile, oltre che delicato, perché dovranno disegnare la futuro Montoro, dovranno dotarsi di uno statuto e lo statuto diventa l'elemento cardine in cui si stabilirà poi come le articolazioni circondariali sull'intero territorio di Montoro Unita saranno dislocate, come saranno offerti i servizi, ma io credo che ci siano le capacità e le professionalità necessarie per portare avanti questo discorso.